La seguente è una guida amatoriale di un videogioco. I contenuti audio e video sono utilizzati a scopo informativo. Questo video non intende fungere da sostituto al contenuto originale. Scorrafoni. Come l'altra volta. Non vi ho detto di spaccare alberi. Su via ragazzi. Ci conosciamo già da dei giorni. Non aspettavo altro. Oh no. Ecco come temego. Ma no. Come tenevo al massimo! Meno male che ho un po' di blu. Beh, perdite minime. Dov'è l'altro? Ah, eccolo. Rossi tocca a voi! Bella sniffata. C'entrata il fuoco, però. Neanche un tesoro. Che delusione! Marroni tocca a voi. Oh, tesori! O almeno, fotti. Aia! Oh, au, oh! Brutto cazzo di... Rossi, trovatevi qualche tesoro stavolta. Ah, ecco qua. Ehm, deprimente. Pensavo di più. Di qua. Un sacchetto d'oro. Pazienza, mi accontenterò del cilindro. C'è un sacchetto. Oh, no. C'è un sacchetto. Ehm, un sacchetto. Ehm... Ehm... Qual è la fregatura? Siamo a posto? Tutti con dei piccoli? Vediamo, di qua o di qua? Facciamo di qua prima. Voglio andare sul sicuro. Signore, ecco altri lanciafiamme! Aurelius li ha mandati qui per sistemare le lumache! Come posso fare? Rossi! Magari Rossi in zona? Per distrarli. Funziona. E Verdi alle spalle. No, 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 tornate qua, tornate qua, tornate qua! Tornate tutti qua, che è meglio. Ma gli fate qualcosa, diamine! Devo trovare una scappatoia. Appena finiscono, magari. Ecco. Ora tornate qua da Bravi. Tutti! Bene. Rossi. Rossi, tocca di nuovo a voi. Mi siete molto utili in questo periodo. Marroni. Verdi. Tutti qua. Via! Bene. Se lo riporti alla torre, potrai produrre degli oggetti degni della tua maestà. Tuttavia, non sarà facile trasportare quel gioco in un'azione. Dove lo portate? Non passate di lì, idioti! Anerottoli! Pazienza, però passiamo dall'altra parte, ma non prima di aver schiacciato quella leva. Sennò, queste leve controllano la fornace là sotto. Lupa che è a nostra. Tutti! Marroni! State qua! Uh! Un blu! Magari! Perché non? Hai scelto tutti! Ora ci capiamo. Tutti! Si può tappare questo buco, eh? A quanto pare no. Fermi, fermi lì. Agiriamoli che forse è meglio. Tutti! Proviamo dall'altra parte, e sia. Tutti! Chiudzi! Meron... ...itel significa che il mare non c'è male! ...leggione del orare, avanti! ...leggione del orare! ...luì! ...leggione del orare, avanti! ...leggione del orare, avanti! ...leggione del orare, avanti! ...leggione del orare, avanti! Oh, miei, dei No, aiuto Legione d'onore Guardi te considerevoli E' un'altra cosa 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 Da che parte? Di qua? Da che parte Marroni Gentile da parte tua Intrigante Sembra una sorta di meccanismo E' un'altra cosa Marroni E' un'altra cosa E' un'altra cosa Grazie a tutti Grazie a tutti